Ora vi mostro come usare il frottamento di acqua di milano. Ogni volta che iniziamo a usare la macchina, la prima operazione è di riempire l'acqua di acqua, se l'acqua non è sufficiente. Questo è molto importante, ho un tipto per questo. Se, durante il frottamento, finisce l'acqua in acqua, la macchina comincia a fare una forte ruota e vibrazione. Se questo succede, bisogna immediatamente riuscire il frottamento nel centro e stoppare a fare acqua. E, punto 1, riempire l'acqua con acqua. La seconda cosa è non usare ancora la stessa ruota, perché la ruota è già cotta. Per fare frottamento, bisogna fare frottamento. Per il frottamento, suggeriremo di usare 100 ml di frottamento di frottamento. Ora, mettiamo il frottamento in acqua. Il frottamento di acqua di plastica aiutano a rinforzare la ruota, soprattutto quando è freddo. Quindi mettiamo il frottamento dentro. Ora, la macchina è pronta, la luce è rinforzata. Quindi, rotiamo il frottamento nella posizione di acqua. e la macchina comincia a fare acqua. Quando il frottamento di acqua è sufficiente per il nostro uso, mettiamo ancora la posizione di acqua, il frottamento di acqua e il frottamento di acqua. qui abbiamo il nostro frottamento di acqua. Questa funzione è un'automatica funzione della macchina. Quando la pressione è rinforzata, la macchina è rinforzata automaticamente nel frottamento di acqua. In questo modo, rapidamente, la temperatura della macchina è rinforzata e diventa stabile. Ora, bisogna rinforzare il frottamento di acqua. Ogni volta, dopo aver finito il frottamento, bisogna rinforzare. Con una macchina, prima rinforziamo tutti gli occhi, poi rinforziamo la parte di acqua, rinforziamo l'interno tubo, rinforziamo, mettiamo la macchina e otteniamo ancora il frottamento di acqua, nella posizione di acqua, per rinforzare acqua e pulire la parte interna. Per solo un po' di seconda, per rinforzare la reti del frottamento di acqua. E poi, cerchiamo, la macchina è ok. Se non abbiamo bisogno di usare il frottamento di acqua, poi rinforziamo. Non abbiamo bisogno di rinforzare il frottamento di acqua. Non abbiamo bisogno di rinforzare il frottamento di acqua. Non abbiamo bisogno di rinforzare il frottamento di acqua. Non abbiamo bisogno di rinforzare il frottamento di acqua.